Ma se dici tu che sei un youtuber, per favore, che io non faccio, non sono abbastanza per stare su YouTube, va bene, accetti quei consigli, ci potremmo anche portare, come so, magari qualche video da fare insieme, cose così. Però non mi sembra giusto doverci pagare per archivare, vediamo solo i video, la sua realtà, magari la parte di YouTube, gli altri youtuber, va bene, ma... Benvenuti popolo YouTube. Ciao a tutti, sono Simon, e sono qua in questo nuovo video per dirvi che mi suicido per colpa di YouTube. Io ero uno youtuber fino a qualche giorno fa, ho deciso di cancellare il mio canale, infatti sono qui oggi sul canale di Google, un mio amico, perché non avevo più voglia di tenere quel canale. Pensavo che YouTube fosse una mia passione, ma si è rivelata poi falsa, perché non mi ha dato le soddisfazioni che volevo. E quando la mia passione fallisce, possiamo dire così, io lo interpreto come una frustrazione, e questa cosa è stata talmente grande che decido di suicidarmi. Ho deciso di mandare questo video a Google, in modo che lo comunicassi a tutto YouTube, Simon si uccide per colpa di YouTube. Addio. Iscriviti al canale